Riconoscimento nei confronti di Wolli Gammarelli, che lo consegna direttamente il Presidente dell'Associazione Omnibus Nicola Miceli. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Omnibus per ricordare uno dei soci fondatori dell'Associazione, Enrico Vulpetti, oltre l'estimato professionista, è stato anche animatore di eventi culturali e persona sempre attenta al sociale. Il premio al nostro direttore è andato con la seguente motivazione. Per l'impegno profuso nell'ambito professionale, da cui ha denunciato con perseveranza disagi sociali e culturali, divenendo voce delle classi più deboli, per essersi speso sempre con serietà e costanza nella divulgazione e nella valorizzazione della sua trapani. A consegnare la targa ricordo la signora Enza Caronia, moglie dell'Avvocato Vulpetti, e Nicola Miceli, Presidente dell'Associazione. Il concorso di poesia, diviso in due sezioni, lingua e dialetto siciliano, ha avuto partecipanti da tutto il territorio nazionale. Vincitrice per la sezione lingua italiana, Patrizia Ruggirello, per quella in lingua siciliana, Antonietta Galofaro. La giuria è stata preseduta dal dottore Gino Adamo, affiancato dal professore Alberto Crescenti e dalla dottoressa Anna Burdua. Direttore del concorso è stato Nino Barone. A condurre la serata, Alberto Galuppo. Grazie a tutti.